Amici di Volonvret, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere con noi Oriana Elia, responsabile del servizio aria del Comune di Torino. Oriana, quali sono gli obiettivi di spazi reali? Gli obiettivi li dobbiamo ancora costruire insieme, nel senso che noi abbiamo dedicato uno spazio ai giovani e per i giovani. Abbiamo delineato alcune linee, che sono le linee più importanti. Abbiamo fatto in modo che questo posto fosse accogliente e da adesso in poi i ragazzi, i giovani che lo abiteranno, decideranno cosa farne. A riguardo di quello che hai appena detto, qual è l'unicità del progetto di spazi reali? In che cosa differisce rispetto ad altri servizi dedicati ai giovani? Intanto si inserisce in una strategia della città che vuole intervenire ovviamente su quelli che sono le problematiche giovanili, ma anche e soprattutto sulla prevenzione. Quindi spazi reali è una realtà dove i ragazzi possono venire a chiedere informazioni, ma troveranno dei giovani come loro, professionisti, e se ne avranno bisogno di essere accompagnati e affiancati nei percorsi, qui sarà il luogo dove troveranno questo. Ringraziamo Oriana e Lia per la sua disponibilità e per ora da Volonbrite è tutto. Grazie mille. Grazie.